Voltare. Volti ci conoscete, però su wiscot.it è il nostro sito, trovate numerosissime informazioni sul sito stesso, in particolare visualizzando la voce prodotti, vedete, trovate la nostra offerta, quello che noi offriamo è il servizio di intermediazione finanziaria su Forex, materie prime con moiti e indici azionari attraverso i CFD, sono CFD che replicano il prezzo del future, così come sul Forex abbiamo la peculiarità di andare direttamente a replicare il prezzo del mercato internazionale. Abbiamo un'esecuzione STP come si definisce, non siamo market maker, andiamo direttamente a ricalcare il miglior bid, il miglior ask presente in qualsiasi momento sul mercato delle valute con i prezzi che ci arrivano dai 17 liquidity provider che poi sono di fatto le banche che danno la liquidità del 95% del Forex, quindi sono le più grandi banche come Nomura, JP Morgan, Citigroup, eccetera. Quindi avete un modello di esecuzione trasparente attraverso l'esecuzione di Squish Code Bank e cosa davvero molto interessante, soprattutto per chi utilizza gli expert advisor o fa trading veloce, ha la possibilità, il trader che fa l'operatività con noi, di beneficiare anche di una serie davvero alta di slippage positivi, ovvero di un'esecuzione migliore rispetto al prezzo di mercato attuale nel 30% dei casi, che non è poco, che rappresenta nel lungo periodo un extra rendimento. Poi questo è un concetto un pochino lungo da spiegare, se volete approfondirlo potete contattarci 800-148-261 al nostro numero verde, info-squishcode.eu.it. La nostra mail ci trovate dalle 8 alle 18, dal lunedì e venerdì, potete anche beneficiare del servizio chat cliccando in basso a sinistra nell'home page, vedete live chat, potete interagire con noi in tempo reale, la disponibilità appunto è dal lunedì e venerdì dalle 8 alle ore 18. Vi invito a prendere anche visione e magari anche iscrivervi alle nostre analisi, sono davvero molto curate e ben fatte, trovate anche poi sul sito il nostro gruppo di analisti che di fatto scrive questi commenti, sempre davvero molto puntuali e interessanti. Questo è un ottimo modo per rimanere sempre aggiornati su quello che accade sui mercati finanziari, abbiamo due newsletter davvero molto valide, che sono la Daily for Snapshot in particolare, che arriva ogni mattina nella vostra casale di posta elettronica alle ore 10 con gli ultimi commenti di quello che sta accadendo sui mercati finanziari e poi il Daily Market Brief che arriva alle 12 dove avete poi un ulteriore aggiornamento sulle notizie più importanti della giornata. Questo che stiamo vedendo in particolare, per farvi vedere appunto il funzionamento, è il Daily for Snapshot, quello che vi arriva per primo la mattina alle ore 12 nella vostra casale di posta elettronica, se solo se comunque vi iscrivete, quindi basta andare su aggiornamenti e analisi, in alto a sinistra, ripeto sul nostro sito squiscot.it, mettete la vostra email, mettete il paese e andate a cliccare in particolare sulle prime due, così ricevete sulla vostra casale di posta elettronica le analisi, tra l'altro se vi iscrivete ricevete l'analisi prima rispetto alla pubblicazione del sito. Poi ci sono anche i movimenti delle principali valute del G10 contro il dollaro, quindi ad esempio in una giornata come questa dove vedete che sono tutte in verde, vuol dire che il dollaro è molto debole, quindi già potete avere delle indicazioni davvero preziose e immediate. Poi avete il comportamento dei principali indici, le notizie più importanti della giornata e livelli di supporto e resistenza ai pivot point sulle principali valute, in particolare proprio su questo, abbiamo fatto un seminario la settimana scorsa proprio sull'utilizzo dei pivot point. Poi sul sito, come vi dicevo, trovate davvero molte informazioni, in particolare anche per eventuali collaborazioni come segnalatori, money manager, white label, eccetera. Per quanto riguarda anche le condizioni, siamo ovviamente molto trasparenti, abbiamo spread a partire da 0.8, però potete trovare il target spread, che di fatto poi è la media del nostro spread giornaliero, in maniera molto trasparente per tutti gli strumenti finanziari che offriamo, ricordo che offriamo solo spread senza commissione su tutti gli strumenti, non solo Forex ma anche materie prime, e CFD, quindi trovate tutte le indicazioni del caso proprio su questa pagina. Poi ho ricordato prima i nostri contatti, sia email che telefonici, quindi potete contattarci per avere maggiori informazioni e approfondimento. Sul nostro sito, su e-scot.it, trovate in alto anche la voce assistenza, webinar, trovate sempre il calendario aggiornato dei seminari nel mese, quindi ogni martedì alle ore 11 facciamo una sessione operativa di trading in tempo reale, dove andiamo a riprendere i concetti spiegati in altri seminari base, e li andiamo a mettere in pratica sui mercati, abbiamo scelto appunto alle 11, perché la mattina tendenzialmente a quell'orario c'è sempre volatilità, quindi ci possono essere più spunti operativi. Poi sempre di martedì alle ore 18 e giovedì alle ore 18 facciamo altri seminari, alcune volte base, alcune volte un pochino più avanzati, quindi i nostri seminari si rivolgono proprio un po' tutti, chi già fa trading da diverso tempo, chi invece vuole iniziare a fare trading, quindi parte dai concetti base. Non bisogna necessariamente aspettare che avvenga un seminario, che ci sia un seminario, potete nel frattempo contattarci, dato che disponiamo anche di tutte le registrazioni dei seminari passati, così possiamo anche farvi un abito su misura, quindi costruirvi un percorso formativo anche basandoci sui seminari che abbiamo già fatto, come seminari base sul Forex, seminari base sui CFD, seminari sull'utilizzo della piattaforma, e chi più ne ha, chi più ne metto. Quindi potete assolutamente avere tutte le informazioni del caso. Bene, datemi anche per favore conferma in chat per quanto riguarda l'audio, dato che ho parlato finora, datemi anche conferma in chat che si vede e si sente tutto bene, così possiamo partire con la nostra disamina sull'utilizzo della teoria dei frattali più che altro, vediamo anche di rendere una cosa che potrebbe sembrare complessa, e poi la teoria dei frattali è molto complessa, però vediamo anche di renderla molto semplice. Quello che vediamo questa sera è proprio lo studio dei frattali, quindi cerchiamo di capire cosa sono, quali indicazioni ci danno, già l'anticipazione è che sono dei livelli di supporto e resistenza dinamici, in particolare nell'operatività li utilizzo più che altro come evidenza di livelli di rottura, quindi una strategia di breakout, come viene anche spiegato qua. È normale che prima di iniziare, come al solito ricordo sempre che tutte le informazioni fornite e l'opinione espressa in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale, non hanno mai come scopo quando di prestare consigli operativi di acquisto-vendita o raccomandazioni personalizzate, e ricordo inoltre che i CFD e i Forex sono prodotti che utilizzano l'effetto leva, e quindi è normale che tutti dovete conoscere l'utilizzo della leva, della marginazione, e i rischi annessi, prima di attivare un conto trading, infatti quello che si va a chiedere anche nel form online, quando di fatto andate a compilare il questionario per aprire un conto trading, quindi su squiscot.it vedete c'è la voce apri un conto, cliccando lì vi vengono fatte prima le domande su di voi, quindi nome, cognome eccetera, poi nelle altre quattro pagine che bisogna compilare vi viene chiesto appunto la conoscenza dello strumento, che leva si vuole utilizzare, questa è già una nostra particolarità, perché non tutti gli intermediari, anzi sono pochi gli intermediari, che vi danno anche la possibilità di scegliere la leva che volete utilizzare, si arriva fino a 500 siete liberi di scegliere il livello che preferite, però anche per questo ci possiamo sentire privatamente, 800, 148, 261 è il nostro numero verde. Andiamo subito nel vivo del seminario, andando a spiegare che cos'è questo pattern, tra l'altro utilizzate appunto la chat se avete domande del caso, piccola annotazione, la MetaTrader 4 mette proprio a disposizione questo indicatore, cioè un indicatore che evidenzia la formazione di questo pattern, anzi la MetaTrader 4, che tra l'altro è la piattaforma che utilizziamo anche noi di Squiscot, è la piattaforma più diffusa sul mercato delle valute, abbiamo la MetaTrader 4 e la MetaTrader 5, molto famosa la MetaTrader 4 per due motivi in particolare, uno perché può essere assolutamente personalizzata, quindi potete creare qualsiasi indicatore o trading system che volete, quindi creare per chi sa programmare o farselo programmare, e soprattutto potete anche fare il cosiddetto aging, quindi aprire posizioni contrarie sullo stesso strumento finanziario, cosa che può essere utile in diverse occasioni, ad esempio se io voglio mantenere la posizione aperta sul loro dollaro su un grafico di 5 minuti e uno di più lungo periodo su un grafico di 4 ore, posso magari gestirmi le due posizioni singolarmente, quindi contabilmente può essere un vantaggio e in molti effettivamente lo apprezzano. Quindi dalla MetaTrader 4 vi stavo dicendo che comunque c'è una zona proprio dove potete trovare gli indicatori del famoso Bill Williams, ha scritto anche diversi libri, tra cui appunto anche il Fractal, quello che utilizziamo oggi. Già permetto che io anni fa ha lessi uno dei libri di Bill Williams, chi l'ha letto sa che è abbastanza complicato, poi ne ha scritti diversi per carità, però parla molto da teoria dei frattali, poi a dire la verità quello che non mi è piaciuto è proprio il fatto che oltre a parlare di Fractals, prima di entrare al mercato lui invitava l'utente ad utilizzare tutti gli altri indicatori che poi sono questi che vedete nell'elenco come conferma, quindi però capite che voi quando fate trading, se già avete un indicatore che è il Fractal più altri 5 oscillatori per avere la conferma, questo diventa tra l'altro molto difficile. Poi un'altra particolarità è proprio il fatto che Bill Williams spiegava nel suo libro questo pattern per fare trading all'interno delle aree che si vanno a formare, ora andiamo proprio a spiegare che cosa sono queste frecce e qual è il pattern, quindi fare trading all'interno delle aree, quindi tra supporto e resistenza in poche parole, come in questi canali orizzontali che si vengono a formare, vedete dove ci sono più frecce, ora definiamo esattamente cosa è il pattern e tra poco lo capiremo meglio. Una differenza invece è proprio che nel seminario di oggi andremo a vedere come fare trading quando questi livelli vengono rotti. La settimana scorsa nel nostro percorso formativo, potete eventualmente chiederci la registrazione a info.quiz.it, abbiamo parlato proprio di livelli di supporto e resistenza statici, ovvero i pivot point. Oggi riprendiamo questo discorso, quindi supporto e resistenza, in questo caso dinamici perché attraverso la formazione dei fractals questi livelli invece continuano a cambiare nel tempo, non rimangono sempre quelli, quindi per questo si dicono dinamici e quindi andiamo ancora ad approfondire il discorso per quanto riguarda supporto e resistenza. Nel nostro percorso formativo se già lo seguite sapete che funziona così, prendiamo un argomento e tendiamo ad approfondirlo, così ci concentriamo su questo, togliamo tutti i dubbi a tutti e andiamo avanti poi, soprattutto mettendo negli appuntamenti del martedì alle ore 11, tutto quello che abbiamo preso nella parte teorica lo mettiamo in pratica in tempo reale sui mercati finanziari. Bene, allora che cos'è questo pattern? Allora, piccola annotazione, la teoria dei frattali, per farla davvero in breve, poi chi si volesse leggere i libri di Will Williams o profare, però lì non è più tanto breve la disamia, ha come logica quella di isolare qualsiasi movimento, quindi io vado a isolare per farvi capire due livelli sul grafico, tutto quello che è successo nel passato non mi interessa più, quindi se io per farvi già l'esempio della piattaforma, vedo ora, andiamo a cancellare la lunga lista degli oggetti, così tiriamo due righe orizzontali molto semplici, poi tra l'altro la linea orizzontale è uno degli strumenti più potenti del trading, io posso dire ora sull'euro dollaro mi interessa 1.24.67, 1.23.72, almeno su questo time frame che è il grafico orario, poi dipende da voi che analisi volete fare. Tutto quello che è successo prima mi interessa relativamente, perché io farò trading solo al raggiungimento di uno di questi due livelli e sarà proprio il mercato a dirmi che direzione devo prendere a seconda del livello che verrà raggiunto. Per gli amanti del trading più veloce ovviamente lo stesso discorso può essere fatto su grafici a un minuto, quindi adesso ovviamente questo è più speculativo, stare tra un minuto e cinque minuti, però è importante anche ribadire il concetto che voi con un intermediario che vi offre spread davvero bassi a partire da 0.8, potete trarre profitto su un'operatività veloce di questo tipo, perché capite che se io voglio fare trading su un grafico un minuto dove mi metto come obiettivo un take profit di 4 pips per fare un esempio, però utilizzo un intermediario che mi fa pagare 3 pips di spread, capite che per ottenere 4, rischio 3, cioè per ottenere 4 pago già tra l'ingresso e quindi il movimento dovrà essere di 7, quindi io prendo un rischio per comunque dare un profitto certo all'intermediario. Quando invece avete un intermediario con un'esecuzione molto precisa e che tra l'altro vi applica uno spread davvero molto basso, allora voi siete certi che avete possibilità anche di fare trading su time frame molto più bassi come il minuto e il 5 minuti. Ora ad esempio per farvi capire anche la differenza abbiamo visto i livelli sul grafico orario, sul grafico minuto questi livelli sono ovviamente molto più vicini, siamo 1.24.02, 1.23.93 che tra l'altro proprio per il nostro seminario in questo momento lo sta testando in questo istante. Andiamo ora a capire esattamente quindi che cos'è il pattern che Bill Williams ci propone, è un pattern a 5 barre dove il massimo del pattern stesso è preceduto da due massimi inferiori ed è seguito da due massimi inferiori, questo è quello che nel corso del seminario sarà il massimo del pattern, il fractal e sarà il livello di resistenza, il buy fractal come ho messo io, nel caso dovesse mai rompere il prezzo a rialzo quel livello noi potremmo valutare un ingresso long, questa è la logica, ok? Quindi allora questo è proprio uno screenshot preso dalla MetaTrader, dove mi sono messo le candele a rialzo verdi, quelle a rimasto rosse, vedete che c'è questo simbolo, questo è proprio il simbolo che avete sulla MetaTrader quando attivate il pattern fractal che adesso andiamo a vedere, vedete proprio questa freccia verso l'alto grigia, questo è l'evidenza del pattern, il massimo, che vedete questo è preceduto, siamo tutti d'accordo che su questo piccolo scorcio di grafico che vediamo, quella evidenziata dalla freccia grigia è il massimo più alto, ok? Il massimo assoluto diciamo di questa fase. E siamo tutti d'accordo che questo massimo è preceduto da due massimi inferiori, quindi questo ci fa capire che c'è stato fin in quel momento un trend rialzista, però a seguito del formarsi di questo massimo poi c'è un ritracciamento e per questo noi vogliamo che ci siano due massimi inferiori, ok? Quindi per farvi capire, adesso guardate la vostra mano, voi avete 5 dita, il medio, quello che sta in mezzo, il terzo è il massimo più alto, ok? Quindi il medio è un dito preceduto da due dita più basse, seguito da due dita più basse, giusto? Perfetto, quando invece volete entrare short girate la mano così lo vedete dall'altra parte, ok? Al contrario lo mettiamo davanti allo specchio e avremo il potenziale segnale short di vendita, per questo ho messo lì tra parentesi cell fractal, una serie di 5 barre dove il minimo del pattern è preceduto da due minimi superiori ed è seguito da due minimi superiori, ok? Quindi la logica è che ci sia un trend ribassista, per questo io voglio sempre minimi più bassi, e poi ci sia il ritracciamento, dovete capire proprio la logica del ritracciamento, quindi viene fatto il minimo, tra l'altro poi con l'esperienza ve correggerete che magari questi livelli corrispondono ha dei supporti, delle aree di supporto precedente, un supporto, un'area dove i prezzi tendono a reggire verso l'alto, come un minimo, un doppio minimo, ok? Andiamo sul grafico, lo vediamo che è in tempo reale, è sempre meglio, questo è l'approccio che preferisco, ad esempio vedete ora sposto al ribasso questa area rossa, vedete? Qua c'è stato un'area dove ci sono stati un po' di minimi, questo che sto evidenziando ora con la linea rossa che ho appena spostato, 1.23.92, su un grafico un minuto e in questo momento un livello di supporto per l'euro-dollaro, perché vedete è stato toccato più volte, c'è stato questo minimo, questo minimo e ora viene testato nuovamente. Non a caso su questi livelli troviamo più fractal, ok? Quindi potete pensare che su questi livelli ci sarà una reazione di prezzo. Noi faremo trading solo se questa rottura al ribasso verrà confermata. Ritorniamo al pattern, quindi vi faccio vedere come si carica nella MetaTrader, vedete in alto a sinistra su questa coincina, poi avete Bill Williams e poi avete Fractal, ok? Lo selezionate e basta. Non potete fare modifiche semplicemente perché? Perché tutti gli indicatori possono essere modificati, questo è un pattern molto semplice, quindi non c'è neanche nulla da modificare, eventualmente per carità si potete modificare il colore e lo spessore della freccia che ve lo indica, però non ci sono altre variabili importanti. Una domanda dalla chat è a che periodi setti i fractals? Esatto, ho appena risposto nel senso che non c'è nessuna modifica da fare, il fractal è sempre un pattern a 5 candele. Piccola annotazione, ma questo solo per chi già conosce molto l'analisi tecnica, chi già è esperto? Conoscete 1,2,3 high e 1,2,3 low di Joe Ross? Quello è un pattern a 3 candele e questo è molto simile ma è 5, ok? Questo lo dico solo per i più esperti. Anzi, a proposito, questo indicatore che la MetaTrader tra l'altro propone può essere utile anche per chi fa trading con Joe Ross e i suoi segnamenti, quindi potete assolutamente utilizzare anche questo per chi conoscesse Joe Ross, è sicuramente un ottimo indicatore questo. Va bene anche per gli indici? La risposta è assolutamente sì, il DAX in particolare che è davvero molto volatile, o gli indici americani che ormai sono in trend dal 2008, potete sicuramente tradare con i fractals. Cercate appunto di andare a prediriggere, questa è una domanda molto interessante, la ricerca dello strumento. Strumenti che sono spesso volatili, sono spesso in trend, per quanto riguarda quindi gli indici abbiamo una preferenza in Europa per il DAX, perché è lo strumento comunque più volatile, e per quanto invece riguarda le valute, sicuramente il loro dollaro, ma anche e soprattutto, anzi, il dollaro yen, che va spesso in trend, anche il gold, perché tra le materie prime il gold è uno strumento molto volatile, ha una buona volatilità, è uno strumento che quando importa in trend ha trend importanti, ecco. Vedete, tra l'altro, sempre proprio per il nostro seminario, c'è stata la rottura in diretta del livello che avevo evidenziato prima, ok? Quindi una serie di fractal, ora rotti a ribasso, poi vediamo a brevissimo proprio come tradare in questi casi. Un altro strumento molto interessante per quanto riguarda il mercato valutario è USDCHF, e poi comunque li andiamo a vedere un po' tutti, però guardate, in particolare da luglio in poi c'è buona volatilità sul Forex, quindi è davvero ottimo questo per chi va a prediligere strategie di breakout come questa, perché comunque c'è un trend, quando il trend è duraturo, sapete che praticamente ora cosa sta succedendo in poche parole sul mercato valutario, lo yen si sta deprezzando molto, così come anche le valute commodities, correlate in particolare con l'andamento dei metalli preziosi come AUD, dollaro australiano, e NZD, USD, come appunto il dollaro non zelandese, e quindi sono spunti molto interessanti, poi protagonista tra le commodity, negli ultimi sei mesi in particolare abbiamo il Brent e il WTI che potete tradare senza commissione anche con noi soltanto con spread, e sono strumenti in trend, ecco adesso giusto per farvi capire, vado a evidenziare in rosso tutte le rotture ribassiste che poi sono semplicemente quei livelli che si trovano vedendo quella freccettina che andiamo a studiare nel seminario di oggi, tutte queste rotture ribassiste di questi livelli hanno portato ad una buona ripartenza del trend in corso, il trend in corso è decisamente ribassista, questo lo dico anche perché uno degli errori più comuni quando si inizia a fare trading è perseverare nella propria posizione, quindi un utilizzo di un indicatore molto semplice come quello del pattern del fractal vi potrebbe far evitare di andare a comprare, comprare, ricomprare e quindi mediare in un trend assolutamente ribassista, cioè quando vedete che vengono sempre rotte ribassi i fractal non mettetevi in real circle, cercate di calcare il trend in più possibile. Un'altra domanda interessante, statisticamente il mercato è in range, non sarebbe meglio tradare il fractal al loro interno? Allora questo è uno spunto ottimo nel senso che lo stesso Bill Williams che ha proposto questo pattern a 5 candele, molto semplice, diceva effettivamente di andare a tradare nel trading range. Il discorso della storia che statisticamente nel 67% dei casi il mercato è laterale, effettivamente può essere vero, in questo caso con questa strategia almeno che io vi vado a proporre, non fate eseguiti in quell'asso di tempo, ma fate eseguiti soltanto nel restante lasso di tempo, ovvero quando parte un trend, comunque voi siete sicuri di essere da parte di usare il trend, questo con i fractal è una certezza, sicuramente poi ci sono un po' di falsi segnali da cercare di evitare e poi cercheremo anche di capire quali possono essere migliori filtri. A proposito comunque di questo, abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi mesi, anche per il mercato laterale, una strategia di trading assolutamente molto interessante che abbiamo approfondito molto negli ultimi mesi, abbiamo proposto anche con gli amici di Trend Online un seminario, l'ultimo seminario che abbiamo fatto con gli amici di Trend Online, verteva proprio su questo, su un expert advisor, quindi un sistema di trading automatico, che va a intercettare ogni movimento di prezzo che avviene tra supporto di resistenza, quindi anche in questo caso potete chiederci la registrazione scrivendo a info.chioccelas.it. Questo è un discorso molto interessante, soprattutto quando fate trading vi consiglio di avere un approccio anche con più strategie, quindi diciamo che chi fa trading può anche fare trading con 3-4 strategie, un altro errore comune è insistere troppo con una strategia, quindi quando voi fate trading potete avere un kit di strategie, ad esempio una strategia come questa che paga nei movimenti di breakout, un'altra strategia che invece tende a pagare sui movimenti di lateralità, così siete sicuri che non guadagnerete sempre da una e sempre dall'altra per carità, ma siete sicuri di appiattire il drawdown del vostro portafoglio, quindi diciamo che poi vivete anche meglio perché siete sicuri che nelle fasi laterali, quando prendete troppi falsi segnali, in una strategia di breakout per capirci andate a ripescare profitto invece dall'altra strategia, quindi in questo modo appiattite davvero le performance del vostro portafoglio, sia a rialzo che a ribasso per carità, però diciamo che vivete anche l'attività da trader professionista o presunto tale in maniera decisamente migliore anche a livello psicologico. Come valuto la rottura dei fractal? Perfetto, profitto di questa domanda è proprio per tornare alle slide e cercare di capirlo, quindi l'ingresso dove avviene? L'ingresso avviene sul breakout, il breakout è la rottura di quel livello, ho evidenziato in questo esempio, vedete, un pattern ribassista, vedete ho tracciato una linea rossa in prossimità del minimo, evidenziato semplicemente da quella linea grigia. Quindi apriamo un'operazione alla rottura del livello di supporto in questo caso, ok? Perché entriamo in vendita, sell, short, quindi andiamo a vendere quando viene rotto quel livello. E qua ci sono due grandi scuoli di pensiero nel trading. Un'altra domanda è, quindi sostanzialmente molto legata alla price action questa strategia, bravo, bravo, questo mi piace molto questa affermazione, ti dico decisamente di sì, è quello che dicevo prima, mentre Bill Williams ti propone una conferma di 5 oscillatori per questo indicatore, io ti dico non mettere nessun oscillatore, tanto guarda l'oscillatore, poi ti dice quello che è successo, quello che vedi dai grafici, l'oscillatore come lo stocastico, RSI, eccetera, sono delle formule matematiche che per carità vi danno un'indicazione della forza del trend in atto, però se uno si fa un po' l'occhio, la forza del trend in atto più o meno già riesce a valutarla da sola, magari con l'estensione delle barre o altri trucchi, ecco la composizione di più pin bar, per chi ama la price action dico questo, però mi piace questo perché sul grafico ti metti il fractal e basta, poi per carità c'è anche chi è amante di più oscillatori, un consiglio che gli do sempre è, ok, usate tranquillamente ad esempio uno degli oscillatori più famosi per avere conferme di tendenza è il CCI, il commodity channel dell'index, utilizzatelo tranquillamente per carità, però mi raccomando non aprite su un grafico 16 oscillatori per avere la conferma di una rottura, è come una riunione di condominio, quando siete in 18 è difficile andare d'accordo, quindi se mettete 18 famiglie a pensare se cambiare l'ascensore o meno il condominio, penso che non cambiarete mai l'ascensore, quindi se avete 18 oscillatori non farete mai in trade, questa è la mia logica. Ok, però lo spunto della price action è interessante, esatto, questa strategia si basa solo e esclusivamente sulla price action, cioè io entro al mercato se, solo se, c'è un movimento, c'è un'azione del prezzo, c'è, se, solo se, c'è un breakout di un livello che giudico importante, il livello giudicato importante poi tra l'altro viene evidenziato dall'indicatore stesso. Appena rompe, settare o aspettare conferma, ecco, questa è la parentesi che stavo prendendo, questo è un punto molto importante, nel trading c'è sempre chi dice, quando c'è il breakout di un livello, c'è chi aspetta sempre la conferma, ovvero un test, mi spiego meglio, cioè supponiamo che il mercato, adesso il prezzo quota 10, il fractal rialzista lo trovo 11, c'è chi dice, io aspetto che il mercato rompa quel livello, quindi magari vada 12 o 13, e poi aspetto che ritorni a 11 e compro a 11, questa è la conferma, quindi aspetto il ritracciamento che il mercato ritorni su quel livello e poi se riparte entro. In questo caso con questa strategia almeno preferisco entrare prima, quindi potete già piazzare, è anche più comodo perché potete già piazzare degli ordini buy, stop o sell, stop e vi faccio anche vedere come sulla metatrader, sulla metatrader, ora andiamo sul loro dollaro che magari è il strumento più scambiato per fare gli esempi, poi per carità questo vale per tutti, andiamo a cancellare le linee, sulla metatrader avete questa mascherina per inserire gli ordini, quindi voi dite ok, io voglio entrare con un ordine pendente e voglio entrare quindi sul breakout, quindi evidenzio dove è il breakout, ok? Ad esempio dico io entro sul loro dollaro long solo se mi rompe 1,2503, quindi dico io entro con un lotto, poi ricordo che con noi si arriva fino addirittura al micro lotto, quindi esposizione davvero mini, metto il mio buy, stop, quindi a 1,2503 entrerò a mercato, volendo posso già mettere se voglio il take profit e o lo stop loss alla singola operazione, ok? Quindi posso dire entrami sul loro dollaro a 1,2503, mettimi uno stop loss dall'altra parte del pattern a 1,2248 e mettimi il take profit, poi questo adesso andiamo a vedere come gestire la posizione, per ora decidiamo un livello, a 1,2765, questo ovviamente è semplicemente un esempio, ok? Giusto per farvi capire come inserire gli ordini. Ora dato che ci siamo vi spiego anche questo, che è molto interessante, questa piccola parentesi anche sulla possibilità di fare trading con un intermediario che praticamente non vi mette limiti, perché sono molti gli intermediari che utilizzano la metatrader, che offrono la metatrader. Allora invece vedete infatti che qua proprio la metatrader dice il prezzo di apertura deve differere dal prezzo di mercato di almeno 0px, cioè potete tenerlo attaccato, se ci fate caso, altri intermediari qua ci scrivono 20, chi 10, chi 5, ognuno ha la sua politica, ok? Con Squishquot questi limiti non ci sono, quindi potete fare trading come preferite in assoluta libertà, ok? Questo è molto molto importante. In chat viene chiesto, ciao Stefano e se lo aggiungo con un super trend come posso sfruttarlo? Ora, esatto, non vorrei aggiungere troppe cose perché dobbiamo ancora finire bene la parte teorica, poi magari questa domanda, se me la puoi ricordare verso la fine del seminario è molto molto interessante comunque. Quindi questo l'abbiamo capito il concetto, no? Si entra sulla rottura, quindi entrerò al rialzo, se mai vedrò una rottura rialzista del livello superiore, entrerò al ribasso se mai si dovesse vedere una rottura ribassista del livello inferiore, quindi molto molto semplice. Cioè della serie abbiamo due livelli, o sopra o sotto, dove rompe vado, va dove ti porta il trend, ok? Voi in questa maniera sarete sempre sicuri che sarete dalla parte giusta del trend. Purtroppo, per carità, non vi assicuro il 100% degli eseguiti in profitto, c'è il problema del cosiddetto false breakout, cioè se il mercato rompe quel livello e poi torna giù. Quello è ineliminabile. Allora, parlavamo di questo prima, 5 minuti fa, molti aspettano la conferma, quindi se il mercato rompe quel livello, poi ritesta quel livello e riparte, entra long. Questo elimina molti falsi breakout. Il problema che vi elimina anche tutti quei trend forti, cioè quando voi, i migliori breakout sono quelli che avvengono nel mercato parte. Tipico movimento sulle notizie, che ne so, quando parla Draghi, quando c'è il non fare parole. Questa strategia può essere utilizzata anche con le dovute precauzioni sulla notizia. La dovuta precauzione è semplicemente non stare a 1-5 minuti, se no siete sicuri che il mercato va giù, vi prende l'ingresso, poi vi stoppa sicuro. Potete utilizzarla a partire dal time frame a 15 minuti sulla notizia, quindi avete due livelli, sopra e sotto, quindi non siete sicuri che avverà il breakout del livello, perché poi dipende dalla notizia, dall'importanza della notizia e da quanto la notizia è discordante rispetto alle attese, quindi non vi assicura l'ingresso, però state a un time frame almeno a 15 minuti semplicemente perché questo vi garantisce che poi due livelli evidenziati da Fractal sono un pochino lontani, perché se lo fate su una notizia, su un grafico un minuto, siete sicuri, non proprio sicuri al 100%, ma al 99% che verrete stoppati, perché il mercato prima della notizia va in maniera erratica, quindi vi prende il livello, torna giù e vi chiude dall'altra parte. Nota molto interessante per i più esperti, possiamo affermare che i Fractal forniscono una via più semplice per studiare la teoria di Elliot. Allora, chi conosce la teoria di Elliot, sa il comportamento delle 5 onde, eccetera, però qual è la logica? Che il mercato parte, onda 1, ritraccia, onda 2, riparte, onda 3, tra l'altro l'onda 3 è la più estesa. La logica con i Fractal qual è? È quella proprio di evidenziare i massimi o minimi dell'onda 1, quindi supponiamo in questo caso del graficchetto che c'è qua, questo è un trend riazzista, quindi vedete che alla fine dell'onda 1 c'è questo massimo, poi c'è il ritracciamento, ok? Quindi sicuramente in questo caso si verrà a formare un Fractal superiore e un Fractal inferiore, poi quando c'è la ripartenza del trend, quindi quando parte l'onda 3, voi sicuramente entrerete dopo, perché non entrerete all'ingresso dell'onda 3, però se già siete capaci a comprare sui minimi, non seguite il seminario, comprate sui minimi, vendete sui massimi, è impossibile diciamo che può uscire il colpo di fortuna, però comprare sui minimi e vendete sui massimi, quello purtroppo non è dato conoscere, lo saprete solo dopo che è un minimo. Quindi la logica è quella di vedere se effettivamente ci sarà la rottura di quel livello, che può essere ad esempio il massimo dell'onda 1, perché conosce Elliot, e da lì vado a cavalcare l'onda 3 fino a tendenzialmente la fine, ok? Poi vediamo a brevissimo proprio la gestione del trade, sia con lo stop loss, con take profit o trading stop. Ok, poi c'è un'osservazione, scusa ma i due massimi o i due minimi devono essere progressivi o basta che siano più bassi o alti, grazie. Questa è una domanda interessante, allora il pattern è molto semplice, il pattern andiamo su quello buy, il pattern è davvero davvero molto semplice, allora il pattern ha 5 candele, la terza candela deve avere il massimo più alto e deve essere preceduta da due massimi inferiori, non mi interessa se il massimo 1 è più alto del massimo 2, ok? Così come non mi interessa se poi la quarta candela o la quinta hanno uno il massimo più alto, massimo più basso, ok? A me interessa soltanto che la terza abbia il massimo più alto e basta. La logica è che ci deve essere prima un trend rialzista e poi il ritracciamento, quindi il pattern in questa maniera tra l'altro rimane ancora più semplice da individuare e ci sono anche meno filtri da seguire. Ok? Perfetto, ora andiamo direttamente sulla piattaforma per vedere un po' di situazioni. Time frame consigliati, questo è anche sempre molto interessante, allora il time frame consigliati, chi trada il mercato delle valute sa benissimo che è sempre aperto, dalle ore 23 della domenica alle ore 23 del venerdì, si trada in continuazione, diciamo che si prende l'orario delle 23 che sono le 5 di pomeriggio di New York come riferimento per la chiusura della candele, però di fatto poi il forex è un mercato sempre aperto, è un mercato over the counter, non regolamentato, il mondo gira e le banche si scambiano soldi e di conseguenza sono sempre in grado di fornire un prezzo di acquisto, un prezzo di vendita, questa è la logica. Quindi non c'è una chiusura vera e propria come invece avviene per l'azionario, ci sono le borse, ogni borsa ha il suo orario di contrattazione, ad esempio dalle 9.05 alle 17.25 per l'azionario italiano. Questo è un bel vantaggio, quindi si possono scambiare anche dei time frame che ad esempio sull'azionario non avrebbe senso, a mio avviso sull'azionario italiano il 4 ore non ha assolutamente senso perché ti fa neanche due varie al giorno e quindi non sei in grado di studiare un grafico. Invece il 4 ore sulle valute, per questa considerazione che appunto è un mercato sempre aperto, potete assolutamente tradarlo, è un'ottima via di mezzo tra un time frame troppo lungo che a mio avviso il giornaliero e tra i time frame più corti che poi arrivano fino al minuto, quindi sicuramente si possono prediligere questi time frame intermedi H4, H1 ed M30, poi c'è chi sempre ha delle preferenze, ad esempio chi preferisce H2, H3, sicuramente questi sono più utilizzati, quindi a mio avviso per questa considerazione semplice che sono più utilizzati, utilizzateli anche voi, poi la particolarità di avere un grafico a 2 ore e mezzo si può anche avere, però non fatevi troppi problemi. Vedete ad esempio su un grafico a 4 ore, cosa sta succedendo ora sul loro dollaro, così utilizziamo questo esempio per fare anche un riassunto di quanto detto finora, i livelli che interessano quali sono? Sono questo e questo, quindi si va ad attendere una rottura di uno di questi due livelli, non si fa trading all'interno di questa fase, almeno con questa strategia, quindi giustamente prima dicevo del fatto di Bill Williams e poi in chat mi era stato anche detto che buona parte dei movimenti sono laterali, io dico ok, in questa fase sicuramente non prenderete falsi segnali perché tra supporto e resistenza di fatto non farete trading. Altra piccola annotazione, dato che c'è anche una domanda in chat che è più un assist, c'è la possibilità che la piattaforma mi disegni in automatico le linee dei frattori, la risposta è sì, perché il bello della MetaTrader è che già per carità ha molti studi, indicatori come tante piattaforme, però ha un grande vantaggio, che non hanno tutte le piattaforme, che può essere personalizzata, quindi potete creare dei trading system o anche semplicemente degli indicatori. In più, dato che è davvero molto utilizzata in tutto il mondo, ci sono anche più community, più forum e molti che hanno sviluppato degli indicatori e poi li danno disponibili in rete, c'è anche un problema nel senso che è normale con l'indicatore dato che poi di fatto tutti lo possono programmare, è sempre meglio testarlo prima di utilizzarlo in reale. La MetaTrader propone proprio l'indicatore per quanto riguarda i fractals, quello che abbiamo visto finora con le frecce, però vi consiglio questo indicatore che vi posso mandare info.ql.sqscot.it se volete richiederlo, vedete la differenza qual è? Ce ne sono due, prendo questo che c'è anche le linee colorate, vedete che praticamente questo vi tira le linee orizzontali, quindi vedete l'indicazione è la stessa perché dove parte la linea orizzontale ad esempio qua, dal punto evidenziato anche dall'indicatore della MetaTrader, questo qua con la freccetta, però capite che di fatto in questo modo vi si forma un canale orizzontale dove a occhio lo vedete meglio, ecco questa è la logica, vedete proprio il livello di supporto e sulla rottura potete entrare o potete pensare già volendo il vostro ordine stop loss e di fatto vi va a formare un canale, quindi possiamo tranquillamente andare a sostituire quell'indicatore con questo qua, questo non è un'invenzione nostra, ci mancherebbe, comunque l'ho trovato su internet, ho approfondito il fatto che l'indicazione che dà è corretta, quindi l'indicatore si chiama fractal channel, poi potete ovviamente modificare i colori come in tutti gli indicatori, lo spessore della linea, non ci sono appunto altri parametri da modificare perché vi evidenzia il pattern, che è un pattern a 5 candele ed è molto semplice. Ora andiamo a fare alcune piccole considerazioni perché poi voglio anche arrivare ad un punto molto importante che è la gestione del rischio stesso della posizione, quindi abbiamo già parlato di time frame, ovviamente per i più esperti può essere utilizzato anche su grafici a 1 o 5 minuti, il mio consiglio è quello di utilizzarlo su grafici a partire da 15 minuti in su fino a 4 ore, quindi dal 15 minuti al 4 ore potete utilizzarlo su tutti questi time frame. Il daily sicuramente trovo, il daily lo scarterei, come i weekly danno troppi, la distanza tra fractal è molto ampia, quindi io quello lo scarterei. Il 4 ore è sicuramente un ottimo time frame per chi fa trading di posizione, sicuramente c'è un trading tranquillo con operazioni che durano 2-3 giorni e non si stressa troppo, anche perché molte persone ovviamente non fanno trading dalla mattina alla sera, magari fanno trading meritori di tempo e quindi il 4 ore è anche un ottimo punto per osservare i grafici, perché ad esempio lavora fino alle 6-7, poi la sera un'ora si mette davanti ai grafici e volendo puoi già piazzare gli ordini stop. Piccole considerazioni sulla gestione, vediamo facilissime modalità per gestire la posizione. Allora, uno può essere, per chi lo conosce, Fibonacci, molto semplice da utilizzare, abbiamo fatto anche il seminario su quello, potete ovviamente chiederci la registrazione anche in questo caso. Fibonacci viene reso molto semplice con i fractal, perché uno cosa fa? Quando tira Fibonacci magari uno non sa mai dove prendere il minimo o il massimo, con i fractal è evidenziato da Pattara stesso, quindi lo vai ad evidenziare proprio unendo gli ultimi due fractal. Quindi vedete, prima avevamo le frecce, ora abbiamo questa linea, anzi vado a rimettere anche le frecce così può essere più comodo per tutti. Vedete cosa ho fatto? Sono andato a unire, volevo ad esempio esaminare l'estensione che ha raggiunto Fibonacci sulla rottura al ribasso di questo fractal, quindi cosa ho fatto? Ho tracciato Fibonacci tra questo minimo e questo massimo. Quindi questo rende la vita anche più semplice per tutti, chi non sa tracciare Fibonacci si limita magari a tracciarlo proprio su livelli del fractal stesso, così fa il suo studio. Quindi qual è la logica? Che quando avviene il breakout, come in questo caso, ora dove sto mettendo la croce a ribasso, quindi vedete area 1, 24 e 13, ha dato il lato ad un movimento ribassista. In questo caso tra l'altro è avvenuto anche il test dal livello e la ripartenza, quindi in questo caso il segnale ribassista veniva preso sia da chi entra sul mercato direttamente con un ordine sell stop, ma anche da chi invece in maniera più prudente aspettava il ritracciamento del prezzo verso il livello per poi ritornare giù. Quindi in questo caso tutti e due i traders venivano accontentati. Poi cosa succede? Voi con Fibonacci potete tracciare le estensioni. Chi conosce Fibonacci sa che ci sono le estensioni intermedie come il 127.8. Il 127.8 è semplicemente la distanza tra questo minimo e questo massimo dove si va a prendere 0.100. Questo potrebbe sembrare complicato per chi non l'avesse mai complicata, ma eventualmente a chiederci proprio la registrazione di un seminario così poi in un'ora di seminario la cosa ovviamente diventa molto più cara. La logica qual è? È posso piazzare il mio stop loss sul 61.8%, quindi il mio margine di manovra è dalla rottura di questo livello fino a qua sopra, su un time frame, questo è un 15 minuti, quindi c'è un margine di manovra di 20 pips di fluttuazione che su 15 minuti non è poco per carità, quindi questo è il mio rischio, 20 pips soltanto e poi posso utilizzare, se voglio utilizzare un take profit fisso ben definito, il 161.8% come take profit, quindi in questo caso, per dirne anche in parole povere, a fronte del rischio di 20 il profitto ottenuto è stato 32, quindi è un rischio di rendimento buono o medio, ecco 1.5 appena sopra, quindi non è assolutamente male. Questa analisi la si può fare anche ovviamente, anzi poi la si fa sempre sugli ultimi fractal, no? Questo era giusto per farvi un esempio. Ora zoomiamo e vediamo quali sono le indicazioni che ci dà l'euro dollaro in questo momento. Allora, prima indicazione semplice è che il trend è ribassista, vedete, avete massimi decrescenti, evidenziate anche le fractal e quindi probabilmente la prossima rottura sarà ribasso, ok? Quindi attenzione ad una possibile rottura di 1.23.84 in questo momento. Nel caso mai vogliate già mettere un ordine sell stop, cosa fate? Premete F9 o cliccate su nuovo ordine, vi appare questa mascherina, quindi voi avete questo livello 1.23.84, io vi consiglio sempre di andare a mettere qualcosa in più, ok? Quindi almeno lo spread. 1.23, abbiamo detto 1.23.84, lo spread di Swissquot è a partire dal 0.8, poi è direttamente sul mercato interbancario l'esecuzione, quindi c'è anche lo spread del mercato interbancario, il nostro spread medio durante la giornata è 0.9, ecco, perché si fa dalla parte fissa che il nostro markup partita dal 0.8 e dalla parte variabile che è lo spread del mercato interbancario che oscilla tra 0 e 0.2 durante la giornata, quindi si parla sempre di uno spread contenuto, di un pip, un pip 1, ecco, 0.9, in alcune fasi 0.8, cioè, non stiamo parlando di 2 o 3 punti di spread, ecco, voglio farvi capire questo. Quindi potete già mettere il vostro ordine di entrata, lo mettete qua sotto, 1.23.83.5, volendo potete già mettere il vostro stop loss, quindi cosa fate? Vi andate a tracciare i livelli di Fibonacci se volete ragionare con quello, vedete, unite il minimo con il massimo in questo caso, e andate a evidenziare i livelli, il 61.8 è questo, 1.23.92 in questo momento, il 161.8 è 1.23.70, quindi voi potete già piazzare questi livelli qua dentro. Questo è un modo sicuramente molto semplice perché voi avete un ordine stop per entrare al mercato, quello qua sotto, quindi mettete il vostro ordine di vendita e stop in questo caso. Il sell stop vuol dire entrami se solo se fa il break out di quel livello, ok? Lo mettete qua. Lo stop loss lo mettete qua, il take profit lo mettete qua. Così avete già una posizione che se entra l'ordine avete già la protezione, stop loss e take profit. In questo caso in particolare per parlare di numeri abbiamo un rischio di 8,7, davvero molto poco, a fronte di un potenziale take profit di 14 pips, quindi vedete abbiamo un rischio di rendimento attorno all'1.5, ok? Perfetto. Ora invece vorrei approfondire un pochino di più la cosa perché già questo è un modo di gestire il trade davvero molto semplice. Quello che si potrebbe anche fare è ragionare in base alla volatilità. Allora facciamo già un'osservazione importante. I fractal già si formano in base alla volatilità del mercato perché in momenti meno volatili, cioè supponiamo tra questo fractal e questo fractal, vedete ci sono 19 pips. In momenti più volatili la distanza del fractal superiore inferiore è più alta e sono addirittura 54 pips in questo caso, quindi vedete che già avete un'indicazione di volatilità. Esiste un indicatore davvero molto molto semplice. Allora c'è una domanda che dice il percentuale di riuscita di questa strategia? Guarda, questa è sempre un'ottima domanda, nel senso che per dare una percentuale di riuscita alla strategia bisognerebbe fare una miriade di backtest. Quello che a me piace fare durante i seminari è proprio creare anche dei gruppi di lavoro, nel senso che ad esempio se faccio un seminario ci sono 100 persone, magari 20 persone se vogliamo vedere la registrazione, 20 persone poi non hanno tempo di fare trading, gli è piaciuto il seminario ma solo per passare il tempo. Altri invece dicono che io voglio assolutamente approfondire, mi metto, mi faccio tutti i miei backtest, eventualmente se sono bravo a programmare mi programma anche la strategia e poi porto i miei risultati così che ci confrontiamo, io posso ottenere delle informazioni, posso dare delle informazioni ed è un bel modo di lavorare. Questo durante il nostro percorso formativo già avviene e c'è anche tra i miei clienti chi ha sviluppato un expert advisor proprio su questo e quindi poi mi ha mandato anche dei test, li avevo postati in passato sul mio Twitter, io lo utilizzo molto nel mio Twitter per condividere idee di trading e soprattutto anche test di strategie così come stiamo facendo anche ultimamente. Per rispondere comunque alla domanda guardati, avevo pure anche un piccolo file Excel, vediamo se lo portiamo di qua, dove vengono evidenziati e qua ci sono due considerazioni importanti, abbiamo analizzato semplicemente il comportamento degli ultimi eseguiti su un grafico a 4 ore, quindi una cosa molto semplice, chi fa trading dedicando poco tempo al giorno è meglio che seguo a 4 ore, che invece che si metta dalle 7, alle 7 e mezza di casa, mentre qua c'è la pasta a fare due click su un grafico un minuto che rischia di fare danni, anche perché quello è un orario assolutamente poco volatile, non fate mai l'errore di fare trading su strategie di breakout, su euro a dollaro dalle 18 alle 20, a meno che non parli da Yellen a quell'ora, quindi una volta al mese, se no si fanno danni. Questo è un grafico a 4 ore, quindi molto tranquillo, però non lo posso spiegare ancora bene perché non ho spiegato questo concetto. Quello che posso far notare è che in alcuni casi, dipende sempre come gestite la posizione, perché se gestite la posizione come vi ho appena detto, con i semplici Fibonacci, vi tracciate due livelli, mettete lo stop loss sul 61.8 e il take profit sul 161.8, avrete un rapporto rischio-rendimento buono, normale, medio, 1.5, cioè rischiate 1 per guadagnare, quando guadagnate, una volta e mezzo di quello che avete perso, quindi tendenzialmente è nel trading considerato un po' la media, 1.5. C'è anche invece la possibilità di prendere statisticamente più eseguiti che si chiudono il take profit, però con un rischio-rendimento inferior a 1, ad esempio questo è uno studio sugli ultimi eseguiti fatti su 4 ore, questa è la data, l'orario della candela, un grafico 4 ore e questa è la TR che adesso spieghiamo e vedete che quando guadagnate sono sempre valori diversi, adesso vi spiego perché, però quello che notate comunque è che nelle chiusure negative, ad esempio queste tre, sono stati valori, soprattutto questo, alto rispetto alla media delle eseguiti chiusi in take profit, però questo lo devo spiegare adesso, ok? Vi spiego la strategia di uscita che si basa sulla volatilità, questa la potete applicare su tutte le strategie di breakout, è molto molto semplice, non si utilizza il take profit ma si utilizza soltanto lo stop loss, qual è la logica? Lo stop loss lo utilizzate perché così vivete anche meglio, nel senso io più di questo non perdo, il take profit non lo utilizzate perché? Perché quando parte un trend forte, voi con l'utilizzo del take profit limitate comunque il vostro profitto, cioè se voi entrate a 10 e mettete un take profit a 5, a 15 vuol dire che più di 5 non guadagnate, quella volta che il mercato da 10 parte a 25 vi mangiate le mani, ok? Però prima di approfondire spieghiamo che cosa è la TR, la TR è un indicatore assolutamente molto molto semplice, vi dice, vi spiega, vi dà un valore numerico della volatilità, è davvero una cosa semplicissima, praticamente vi misura la differenza tra massimo e minimo delle barre, per dirvela proprio in breve. Si utilizza universalmente diciamo 14 periodi, 14 periodi sono quasi 3 settimane di borsa, quindi vuol dire che io sto esaminando la volatilità, la distanza tra massimo e minimo delle barre nelle ultime 14 candele, quindi 14 giorni se sto guardando un grafico a giornaliero, 14 minuti se sto guardando un grafico a un minuto. Per dirvi un valore sul giornaliero, la TR adesso è a 95, vedete questa lineetta blu sotto, adesso è a 93,8, vuol dire che la distanza media nelle ultime sedute tra massimo minimo sull'euro dollaro è di 93, c'è stato un periodo inizio luglio quando la volatilità era davvero piatta, ve lo ricordate, infatti era 39, tra l'altro un minimo storico per l'euro dollaro, se dovessi esprimere una media nella storia dell'euro dollaro penso che siamo attorno agli 85, comunque diciamo che adesso c'è una media di volatilità normale, ecco qualche settimana fa siamo addirittura andati ai 120, comunque questa è la volatilità media normale che c'è ora sul mercato delle valute, quindi c'è una certa escursione tra massimo e minio. Sul grafico a 4 ore per esempio ora siamo a 52, è normale che più accorciate il time frame meno l'escursione del prezzo in quel time frame, perché è normale che in un minuto il prezzo si muove meno che in 24 ore, se andate su un minuto, dopo le 18 questo valore crolla, comunque un valore medio su un minuto è grossomodo 2 pips e mezzo. Questa è la considerazione che vi facevo prima, se voi avete un intermediario con 3 punti di spread vuol dire che non potete assolutamente fare trading su un grafico un minuto, anche perché su un grafico un minuto l'escursione media è di 2 pips, ecco se già l'intermediario vi prende 3 pips solo per entrare al mercato potrebbe essere un problema. Spieghiamo il discorso della TR, quindi voi cosa fate? supponiamo che entrate su una rottura di uno dei livelli dell'euro dollaro, ok? E cosa fate? Andate a vedere il valore della TR, quindi andate a vedere il valore di quando c'è la rottura o della candela prima, saranno valori identici. Piccolo trucchetto, una metatrader per vedere valori precisi andate su questa finestra dati, su questa iconcina qua in alto, questa tonda col mirino, mettendo il mouse sulla candela vi dice tutti i dati di quell'indicatore, ok? Quindi massimo, minimo e tutti gli altri dati, ok? Anche degli indicatori che ci sono, quindi per quanto riguarda la candela appunto abbiamo massimo e minimo, apertura e chiusura, i 4 prezzi e poi se avete aperto lo stocastico vi dà il valore dello stocastico, se avete aperto il pattern fractal vi dà il valore del fractal, se avete la TR vi dà il valore della TR. Quindi ad esempio sulla rottura di questo livello, vedete? Prendete la candela prima, se volete, siamo 43 punti, ok? Voi cosa fate? Ogni volta che il mercato vi si muove a favore di quel valore, andate a spostare lo stop. Qua vi garantisco che ci vuole pazienza, quindi cosa vuol dire? Che appena voi state guadagnando 43 pips, voi andate a spostare lo stop a 0, quindi se prima lo stop lo mettevate dalla parte opposta del pattern per esempio, quindi rischiavate 85 pips, quando il mercato vi va a favore in base a un valore della volatilità del momento, quindi vedete il valore della TR in quel momento, voi andate a spostare lo stop. Ci vuole pazienza e anche in un bel 30% dei casi magari chiudete la posizione con un profitto 0, il che può essere estremamente. Però questo è un buon modo per gestire il rischio, quindi voi dite ok, se il mercato va su bene, finché il mercato va su di 43 pips cosa succede? Io non faccio niente, quando viene raggiunto il primo livello, quindi il mercato è salito di 43 pips che è il valore della TR, io cosa faccio? Tolgo il rischio dal mercato, quindi il mio stop loss lo sposto al livello di ingresso, poi ti ripaghi lo spread del cappuccino alla brioche della mattina, quindi lo metti un pip sopra e basta. In questo caso avete una bella noia, per quello che esistono anche i trading system, perché poi lo fa l'expert advisor in automatico, c'è tutta questa sezione da metatrading, autotrading. In questo caso cosa succede? Succede che togliete comunque il rischio dal mercato, perché se il mercato continua ad andare su bene, se il mercato ritraccia, venite buttati fuori dal mercato. In questo modo però avete anche un problema, si è sempre rovescio la medaglia, perché voi dite ok, io sto guadagnando 43 pips e poi chiudo la posizione a 0, questo è un problema, è vero. Però questo vi permette di essere al mercato invece, quando succedono degli eventi, ora cancello l'allino orizzontale, come questo, cioè quando c'è un trend forte, quando c'è una rottura forte, vedete, qua c'è stato un movimento di 144 pips, se invece limitavate il vostro take profit al valore della TR in quel momento era 44, non facevate i 144 pips di profitto, ma soltanto una parte. Quindi è normale che dovete sempre sacrificare magari qualcosa se volete attenere a qualcos'altro. Nel lungo periodo, lavorare in questo modo senza take profits, una strategia di breakout, vi porta comunque tendenzialmente a profitti più alti, purtroppo sono pochi eseguiti che vi fanno generare un buon profitto, come ad esempio in una serie analizzata su 4 ore, vedete che c'è stato un eseguito da 99 pips, tra l'altro capite che per fare 99 pips di profitto, quando la TR è 33, cosa vuol dire? Che dovete ragionare per i gradini, quando il mercato, quando il prezzo vi va a favore di 33 pips, voi togliete il rischio e quindi già psicologicamente siete più tranquilli, avete tolto il rischio del mercato, questo è il gradino numero 1. Quindi se il mercato continua a andarvi da parte giusta bene, diversamente chiudete a 0. Quando invece il vostro profitto diventa di 66 pips in questo caso, cioè il doppio, voi cosa fate? Ragionando per gradini spostate nuovamente lo stop, quindi vi assicurate un profitto di 33, andate a spostare lo stop loss e come dire, sto guardando 66, 33 me li assicuro, quindi sposto il mio stop loss verso l'alto di un gradino, l'ampiezza del gradino è sempre data dal valore della TR iniziale, ok? Fate la cosa semplice, non andate sempre a vedere la TR di una singola candela, quando avete aperto la posizione, quindi sul mercato di quella candela, vedete la TR e poi spostate. Un ottimo aiuto, anche se ha degli effetti diversi, questa è una considerazione molto importante per quanto riguarda l'operatività, può essere il buon amico dell'uomo, che si chiama training stop. Allora, il training stop funziona in questa maniera, che lo piazzate ad una certa distanza che decidete voi, poi abbiamo fatto anche un seminario sulla piattaforma, come utilizzare la piattaforma, essere gli ordini, ora purtroppo non c'è molto tempo, anzi sto già andando troppo lungo. Lo stop si tiene sempre alla stessa distanza, quindi voi mettete il training stop come l'ATR, quindi se l'ATR in questo caso è 33, voi date 33 al training stop. Se il mercato sale, se il prezzo sale, il training stop segue, quindi sta sempre a 33 punti di distanza, quindi se il mercato sale di 10, c'è anche il training stop è salito di 10. Quando poi il prezzo ritraccia, vi butta fuori. L'effetto è comunque diverso rispetto a spostare lo stop per gradini, è simile, vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che comunque manteniamo la stessa logica di non utilizzare il take profit e quindi di non andare a limitare il profitto quando parte un trend forte. Infatti vedete in questo caso i profitti non sono sempre lo stesso numero di pip, sono sempre variabili, ma sono sempre variabili in funzione della volatilità di quel momento. Invece avreste profitti o perdite poi invece diciamo più stabili sicuramente se utilizzate la gestione del trade dove vi ho detto prima di utilizzare Fibonacci 61,8, in quel caso avrete sempre un rischio rendimento di 1,5 e quindi il rapporto di rischio rendimento sarà tendenzialmente sempre pari a quel valore. In questo caso fate trading sulla volatilità del momento, ecco per capirci. Potete sicuramente, anzi fatelo almeno nell'osservazione dei grafici, diminuire il time frame, sicuramente farete più eseguiti. Non scenderei almeno se iniziate domani a utilizzare questa strategia, non utilizzate un grafico un minuto, io ritengo che in approcci così, su un time frame così corto, su M1 e M5 ci vorrebbe sempre un approccio multi time frame, quindi fare trading soltanto nella direzione del trade principale. Per farla in breve, ora non ho molto tempo per spiegarlo, se io vedo sul 15 minuti un breakout ribassista, su M5 e M1 farò trading sui breakout ribassisti e basta, così vi evitate di prendere diversi falsi segnali che possono avvenire. Sul time frame così corti è fondamentale questa cosa. Bene, ora andiamo a rivedere questi risultati, quindi la logica qual è? Il posizionamento dello stop loss, questo può essere un punto debole della strategia, però a volte è meglio far correre un po' il prezzo. Il punto debole della gestione con l'ATR è, almeno con il fractal, poi per carità, ogni strategia ha i suoi pregi e difetti, è la distanza del take profit, perché il take profit a mio avviso in una strategia di questo tipo va lasciato, lo stop loss scusate, va lasciato dalla parte opposta del pattern, ok? Quindi ha un rischio rendimento addirittura inferiore a 1. Statisticamente comunque avrete una serie di take profit quasi sicuramente, il sicuro non c'è, più alta dei trade in profitto, però vedete già, questo è un buon esempio, se iniziate a fare un po' di trade, di eseguiti, o fare osservazioni semplicemente sui grafici con i fractals, sui breakout, avete dati molto simili a questi, quindi avrete delle perdite che poi vedete, a parte questo, c'è stata un'ampia perdita di una figura 26, poi avete queste perdite che sono accettabilissime su un timeframe a 4 ore, però poi avete anche dei buon profitti, ad esempio quando parte un bel trend, riuscite a prendere 3-4 volte il valore dell'ATR, difficilmente, ma capita per fortuna, riuscite ad arrivare fino a 6-7 volte l'ATR, però già quelli sono casi abbastanza rari, ecco, diciamo che poi avete una serie di casi dove chiudete le posizioni a 0, perché il mercato sale, arriva a muoversi a favore di almeno il valore dell'ATR, in questo caso 36px, poi ritraccia e chiudete la posizione a 0, ci sono anche questi casi, tendenzialmente su un campione di dati più largo avrete molti più casi di chiusura di posizione a 0, anche perché adesso c'è una buona volatetta sul Euro-Dollaro, quindi non ci sono tantissimi ritracciamenti, però su un campione di analisi più lungo avete una buona serie di chiusura a 0, ok? Perfetto, non vedo altre domande in chat, ora purtroppo forse il tempo a disposizione non è mai tantissimo, ecco, in un'ora ci siamo riusciti a comunque spiegare il concetto del pattern e soprattutto anche dare alcuni consigli sulla gestione del rischio, quindi abbiamo visto la gestione con l'utilizzo dei livelli di Fibonacci, ma anche la gestione con l'ATR che è davvero molto semplice, poi è normale che possiamo anche rimanere a disposizione per approfondire l'argomento, così come anche per i nostri clienti sarà a disposizione la registrazione, info.chioaccia.it per ottenerla. Vediamo se ci sono altre domande in chat, bene, al momento non ne vedo altre, spero di aver risposto tutte, se non l'ho fatto potete contattarci, 800-148-261 è il nostro numero verde, siamo a dicembre, quindi regalo di Natale ed obbligo, abbiamo, diamo la possibilità, perché attiva però il conto e fonda entro il 19, quindi praticamente avete una settimana di tempo per farlo, abbiamo anche rimosso il deposito minimo, quindi possiamo, l'importante è attivare un conto trading, poi è normale che più si versa e meglio si lavora nel trading, questo è chiaro, però stiamo anche cercando di incentivare l'operatività in reale, nel senso che molti iniziano con la demo, che per carità, soprattutto per chi non conosce la leva, eccetera, o chi non conosce la piattaforma è bene, scaricare la piattaforma demo ci mancherebbe, la metatrad comunque è una delle piattaforme più diffuse, quindi molti di voi già lo utilizzano, il vantaggio di fare trading con su Wiscot è quello di beneficiare tra le migliori condizioni di trading, con spread a partire da 0.8, leva che viene scelta dall'utente, quindi dal singolo trader, che arriva fino al 500 e ovviamente può essere cambiata durante la vita del conto trading, un'offerta molto ampia che include non solo le valute, ma anche i CFD su indici azionari come il DAX, lo Standard & Poor's, lo Dow Jones, lo Stocks, eccetera, ma anche i commodity, quindi il crude oil, il gold, il silver in particolare sono scambiati come le valute e in sette valute diverse, quindi non c'è soltanto il gold in dollari, c'è anche il gold in euro, eccetera, ovviamente potete aprire il conto nella valuta base che preferite, abbiamo una banca d'appoggio che è Barclays in Italia, così il cliente italiano tendenzialmente versa su Barclays perché comunque non fa movimentazione all'estero, quando versa in Italia, quando preleva, preleva dall'Italia, non c'è nessuna movimentazione all'estero, in più stiamo offrendo per le attivazioni di conto che avvengono questo mese entro il 19, 100 euro di accreto, questo è molto importante perché appunto come dicevo stiamo incentivando l'operatività in reale, quindi abbiamo rimosso un minimo di diversamento che prima era 2.000 euro, abbiamo lasciato la scelta al singolo trader di decidere con che capitale iniziale, abbiamo anche messo scrill money bookers con portafoglio elettronico per accettare i versamenti, quindi il versamento può avvenire attraverso bonifico bancario o attraverso scrill diciamo in tempo reale e potete accedere ai mercati finanziari anche con l'utilizzo del micro lotto sul mercato delle valute, del mini lotto sui cf di azionari, questo vi dà anche la possibilità di fare trading con bassi importi e di gestire decisamente in maniera migliore il proprio rischio perché ad esempio chi già fa trading anche sul DAX sa benissimo che il DAX è un contratto molto pesante, 25 euro punto, con il mini lotto invece potete anche comprare una frazione del future stesso, quindi 0.1 e gestite diversamente e decisamente in maniera più efficace il vostro rischio. Per quanto riguarda invece il mercato forex e il mercato delle valute, si può accedere al mercato con i micro lotto addirittura, con spread a partire da 0.8 ed esecuzione in maniera molto trasparente sul mercato interbancario, non siamo market maker e quindi anche questo è un bel vantaggio, poi come vi dicevo prima abbiamo rimosso molti limiti che molti intermediari che offrono a metatrader hanno, ad esempio la distanza tra il prezzo di mercato e lo stop che con noi non c'è, diciamo si può anche mettere uno stop attaccato al prezzo attuale e poi anche per chi fa edging quando voi avete posizioni opposte sullo stesso strumento finanziario, la marginazione richiesta si va ad annullare se avete posizioni edgiate, invece molti intermediari vi chiedono sia il margine di una posizione che il margine sull'altra posizione. Per quanto riguarda i costi di gestione, non c'è costo di apertura a conto, bonifici in entrate, in uscita, non hanno assolutamente nessun costo, il profitto dell'intermediario di dire la verità deriva soltanto dallo spread, quindi il nostro sforzo per quanto riguarda il percorso formativo l'abbiamo già dichiarato, nel senso quello di condividere idee e opinioni di trading, quindi se volete anche partecipare a poi quel movimento che è stato affiancato al nostro percorso formativo potete assolutamente farlo, l'idea di condivisione di trading è sempre ben apprezzata, anzi per quanto riguarda anche i titoli dei seminari che facciamo, mi baso anche molto sulle vostre informazioni, sulle vostre opinioni, andiamo sempre di mese in mese a fare dei nuovi seminari approfondendo degli argomenti che proprio voi mi segnalate, quindi per noi questo è davvero sempre molto importante. Per quanto riguarda i nostri contatti, info, chiocciola, squiscot.it, la nostra mail 800 148 261 il nostro numero verde, squiscot.it il nostro sito, trovate tutte le informazioni, per quanto riguarda l'apertura del conto trading si fa direttamente dalla home page, cliccando scopri un conto, si va a compilare il formulare online, la cui compilazione richiede circa 10 minuti, ci inviate a info, chiocciola, squiscot.it due documenti come carta di identità e bolletta degli ultimi tre mesi per esempio, e si va a chiocciola.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it. Grazie. 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 Grazie.